Ciao amici, ho una notizia fantastica da condividere con voi oggi. Manila Nazaro e Stefano Oradei si sono finalmente sposati con il rito civile a Roma. Dopo aver trovato l'amore con Stefano, maestro di ballo di Ballando con le stelle, Manila ha detto, sì, in una cerimonia intima al Campidoglio. Le damigelle della sposa, erano Milena Miconi e Angela Melillo, amiche care di Manila. Ma non finisce qui, il 13 maggio ci sarà una grande festa con più di 100 invitati per celebrare l'amore tra i due novelli sposi. Manila ha condiviso su Instagram che la vita le ha regalato una favola, e che finalmente è una donna felice, compresa e supportata da Stefano. La coppia è pronta per il prossimo capitolo della loro storia d'amore. Dopo il rito civile, Manila e Stefano si sono spostati sulla terrazza dell'hotel Mecenate Palace per un piccolo ricevimento con vista sulla Basilica di Santa Maria Maggiore. Hanno posato per le foto, felici e sorridenti, accanto alla loro torta nuziale romantica. E cosa succederà il 13 maggio? La cerimonia avrà luogo a Villa Miani a Roma, e sarà ufficiata da Milena Miconi. Questa seconda cerimonia, sarà un momento speciale per la coppia, con la presenza di nomi importanti della televisione italiana. Stefano merita tutto l'amore e l'importanza che questa giornata speciale porta con sé. Quindi, congratulazioni a Manila Nazaro e Stefano Oradei per il loro matrimonio. Che il loro amore possa durare per sempre e che possano essere felici insieme per tutta la vita. Stay tuned per ulteriori aggiornamenti su questa meravigliosa coppia.